La portata di un condotto inquinante e devastante può distruggere ogni cosa nell'ambiente. No, non è un nostro problema, noi scoppiamo di salute e viviamo in un giardino, davvero non ci importa. Siamo tutti collegati, siamo un'unica catena di reazioni e di legami, lo stesso corpo. Siamo parte di un sistema che dobbiamo preservare rispettando la natura che possiamo noi. Siamo parte di un ambiente che dobbiamo rispettare mantenendo l'equilibrio, dai che ce la fai. Costruiamo un nuovo ambiente, possiamo farlo, possiamo farlo, siamo uno stesso corpo, ecosistema. Systemico Grazie a tutti.